Ciao a tutti, eccomi qua sul video come ho passato io la 3 al 3 con alcuni consigli su come cercare di affrontarla Allora, il primo boss che incontrate, perché questa 3 al qua ci saranno 3 scontri, il primo boss è il Juggernaut Allora, di suo infligge Injury, Paralysis e Weakness con gli attacchi normali In più ha come una OE che è il Magnetron che ha una chance di paralizzare Quindi è obbligatorio avere qualche unità che vi rimuove i buff e che magari vi dà la possibilità di essere immuni a tutti gli status per un tot turn Io infatti mi sono portato il Kina Poi, la cosa da fare attenzione è ogni 4 turni fa una OE molto forte che si chiama il Neoplasma Blast Questa è veramente l'unica cosa in cui dovete fare attenzione Quindi o vi mettete in guardia oppure attivate Darvanshell o LULU Mi raccomando, comunque per fare questo trial obiettivamente per me sono diciamo 4 le unità fondamentali Vi serve Lillimata, come ce l'ho io come friend, io l'ho usata come friend, leader Graden, Darvanshell e un'unità che toglie i buff Poi però vi serve anche un curatore perché vi dovrete curare tanto Quindi ricordatevi, questa qui è la prima cosa Un'altra cosa molto importante è che vi dovete tenere conto dei turni Per questo io vi do un link per un sito che si chiama Brave Frontiers Pros Ed è praticamente, ha un contatore di turni proprio per questo trial Che poi dopo vi spiegherò un attimino a cosa serve questa cosa Intanto vi faccio vedere cosa c'è dopo il Juggernaut Dopo il Juggernaut c'è il demone Abaddon Dunque dovete tenere conto, anche qui nel conto dei turni Che il turno in cui uccidete il Juggernaut Se è il turno 9 E ancora il turno 9 quando appare Abaddon e vi attacca Quindi dovete fare attenzione per tenere conto di questi turni Questi turni poi vi serviranno per Maxwell Quindi quando sarà arrivato il momento di Maxwell vi spiegherò il perché Comunque Abaddon di suo infligge anche lui Lui infligge tutti gli status Quindi anche c'ha la course Perciò anche qui diventa sempre importante Avere un'unità che toglie i buff e vi rende immune E vi rende immune In più però Lui ha un attacco a single target Che si chiama il Banishment Che vi toglie via i vostri buff Quindi La cosa migliore è che se avete Se avete un debuffer Io nel mio caso Ulkina purtroppo Non c'avevo la pietra Perché vi basterebbe usare una sfera Che vi rende immune ai debuff Così in quel modo siete tranquilli Però Io sono stato abbastanza fortunato nel mio try E quindi non mi ha mai Cursato o paralizzato Ulkina Tranne alla fine ovviamente Perché Lì ho sudato parecchio Comunque di Abaddon Dovete fare attenzione Quando è al 50% Che vi tirerà un death gate Death gate E un Un single target Un attacco a single target Che fa malissimo Quindi Quando arrivate verso il 50% Se non vi sentite sicuri Mettete in guardia Ma comunque cercate di triggerare L'unità Che vi fa prendere metà di danno Anche qui Darvansh e le Ululu Sono veramente importanti In questa Per fare questa trial Poi Il death gate Ve lo farà Di nuovo Quando sarà Al 30% Di vita No Però Questa volta Mentre Nella Al 50% Lo usa due volte Al 30% Lo usa Ben quattro volte No Quindi Su questo Dovete fare molta attenzione Ah infatti Adesso che Sto rivedendo il video Ulkina mi è stata Mi è stata Cursata una volta Però Sono riuscito A pararmi Abbastanza bene Da questa situazione Qui al 30% Di vita Potete utilizzare Anche qui Se non vi sentite sicuri O magari Se non avete Gradens Perché Gradens Mi serve Per questo qui Io ho usato Gradens Come mio leader Se non avete Gradens E vi sentite Poco sicuri Potete Prendere E metterle in guardia Le unità E con una sola unità Attaccarlo Quindi Avete Meno chance Che magari Vi uccide Due unità Nel mio caso Mi ha ucciso Solamente Zell Knight Che Tra le altre cose Oracle Quindi ha Meno vita Forse Se era Anima Mi sopravviveva Tranquillamente E poi Per il resto Il buon Devone Abaddon Non ha altre sorprese No Adesso vi spiego La questione Dei turni Intanto che Piano piano Il video Arriva A A Maxwell La questione Dei turni E perché Maxwell Ha degli attacchi Ben precisi No Ogni tot round Lei fa un attacco Fa due attacchi Specifici Uno Si chiama Il run Che è praticamente È un attacco Che fa un casino Di danno A Aggiunge L'ignore defense E rimuove i buff Sul target E l'altro È il destiny Il destiny Invece È un attacco Che fa malissimo E che fa 14.000 Di danno No Il run Viene usato Ogni 4 turni Il destiny Ogni 5 turni Ogni 20 turni Diciamo che Come si dice Maxwell Resetta il suo Counter Di attacchi Quindi poi dopo Vi ritrovate Al 21esimo turno Come se fosse Il primo turno Per questo Sempre ricordatevi Usate Il link Che io vi ho dato Per andare sul Counter Che vi aiuterà Molto Anzi Moltissimo Io infatti Ho fatto Ho tirato un po' Alla lunga Lo scontro Con Abaddon E mi sono ritrovato Ulchina E Gradens Paralizzati Ma perché Perché In questo modo Io mi sono ritrovato Ad un turno Diciamo Neutro Con Contro Maxwell Dove Nei quali Contro il quale Ho avuto un attimino Più Di respiro Perché Generalmente Sui 4 turni Che Che Si Susseguono Un rune E un altro Tra un rune E un altro Avete almeno Sempre un paio Di turni Tranquilli E il Il terzo turno E quello Dove c'è il destiny Attenzione Al ventesimo turno Perché Come ho detto Essendo che Il rune Ogni 4 turni E il destiny Ogni 5 turni Al ventesimo turno Questi due attacchi Coincidono E vi fa Un male Dalla madonna Infatti Al ventesimo turno Quando io Ci sono arrivato Ho usato Darvanshell Ho usato Ulchina Per curare tutti Ho messo Tutti gli altri 4 in difesa Perché altrimenti Rischiavo veramente Di fare una pessima fine Anche perché Ulchina E Darvanshell Hanno 9000 di vita Mentre gli altri Tipo Gradens Che Oltre tutto È di oscurità E di oscurità Quindi prende Molto più danno Rischiavo di morire Detto questo Sulla questione Dei turni Mi raccomando Voi dovete tenere Conto Al primo turno Perché Nello scontro Contro Maxwell Il primo turno Che voi siete Contro Juggernaut È il primo turno Effettivo Dello scontro Contro Maxwell Quindi Dovete Io ho cercato E ho fatto in modo Di Girarmi Tutti i 20 turni Infatti Il ventesimo turno Io rischiavo Di incontrarmi Maxwell O Non ho attaccato Mi sono tenuto In difesa In questo modo Mi sono ritrovato Contro Maxwell Al suo turno 1 Effettivo E quindi Non mi sono preso Rune e Destiny Contemporaneamente Che forse Mi avrebbero addirittura Shottato Perciò mi raccomando Tenete sempre conto È importante Questi turni Intanto Il video È passato Verso Diciamo Il primo punto Critico No Che è Al 70% Se non mi ricordo male Sì Perché la barra È arrivata lì E vi tira il Meteor No Il Meteor È È un attacco Fisso Che fa 4800 di danno A meno che Non Non l'ho mitigato In qualche maniera Quindi Se avete qualcosa Tipo il Darbarcelo Lulo L'ho attivato Oppure magari Mi mettete in guardia Giusto per essere sicuro Anche perché Se dopo Il Il suo Simpaticissimo Meteor Vi casta E magari Cade nel turno Del runo Del Destiny Rischiate che vi uccide Qualche unità L'altro L'altro punto Critico Con Maxwell Perché Il bello è che Qui ogni 4 e 5 turni Dovete fare Attenzione E in più Avete a seconda Delle varie percentuali Di vita Tutte queste cose Simpatiche L'altro punto Un pochettino Critico È il 50% Dove Maxwell Vi tira Un Resurrection Che è Una combo Di attacco Un combo Light Damage Che fa tutti Che colpisce tutti E che cura Maxwell Del 150% Del danno Inflitto Nel mio caso Se non mi sbaglio Si curava Di 8 9000 Circa Il fatto è che Da questo momento in poi Da sotto il 50% Il Resurrection Diventa Uno degli attacchi Di Maxwell Gli si aggiunge Ai suoi attacchi Normali Quindi Ogni tanto Vi capiterà Che poi dopo Si curerà Dopo questo 50% Dovete arrivare Al 30% Ecco il video Io ci sono arrivato Abbastanza veloce Se non mi sbaglio No Però dovete fare attenzione A non andare Dal tipo 31% Fino a sotto Il 20% Altrimenti Vi beccate Due Mazzate Disumane E siete morti Dunque Al 30% Vi farà Un Genesis Che è un Aoe Che è un attacco Che è un attacco Aoe E in più Dal 30% In giù Maxwell Casterà Il Destiny Invece che Una volta Due volte Quindi Se per sbaglio Vi acchiappa Un'unità Come è successo a me Vi tira due volte Su un'unità Che magari Non avete messo in guardia Oppure È successo a me Su Darwin Shell Ve lo uccide Anche se ha 9455 Di vita No Fate attenzione E E qui diciamo Che è l'altro punto Il Penultimo punto Da fare attenzione Quando è al 20% Maxwell Perché al 20% Vi tirerà il suo Super Brave Bust Che è Landless Landless Tanto bello Da vedere Quando siete voi A castarlo Ma è tanto brutto Da vedere Infatti me ne sono Accorto Perché utilizzando I Maxwell Dei miei amici L'ho castato Ed è bello Vederlo Ma è brutto Vederlo Quando te lo tirano In faccia Landless Sono 33 attacchi Ad area Quindi su tutti Perciò Anche qui 30% Vi attivate Il vostro Simpaticissimo Olur O Darwin Shell E vi mettete in guardia Possibilmente Le unità Di oscurità Come ho fatto io Perché se no Veramente rischiate Di morire Ma malamente E qua Da questo momento In poi Dovete Dovete far Far attenzione Ai turni Perché Cosa succede Maxwell Ha un'abilità Che si Che lei si casta Ogni Tre turni No Ogni quattro turni Cioè al turno 4 8 12 16 E 20 No Che praticamente È la Sacred Song La Sacred Song Gli funziona Come un Angel Idol Cioè la resuscita Perciò Voi dovete trovare Il momento Di ucciderla Appena se la casta Lo turno stesso Che se la casta Da quel momento In poi Voi avete Tre turni Per ucciderla Perché Dato che lei resta Con 100 100.000 di vita Se Se notate Sul video Che io vi sto facendo vedere Io ho messo La velocità 6x Però Sono lentissimo A fare Quest'ultima parte Dal 20% In giù Perché stavo Contando i round Dato che Io sono arrivato Al Al punto Dove mi trovavo Verso il ventesimo turno Quindi gli ho dovuto Far tirare Il rune Il doppio destiny Perché me ne ha tirati Due E a quel punto lì L'ho potuto uccidere L'ho uccisa Se non sbaglio A round 5 Perché il round 20 L'avevo già passato L'ho uccisa A round 5 Lei mi ha tirato Il destiny Mi ha ucciso Darvanshell Perché mi ha tirato Due destiny Sul darvanshell Che nonostante Aveva utilizzato Il suo Super brave bust Ma sono Ma sono poi Riuscita ad ucciderla Perché lei è risuscita Con 100 Con 100 mila di vita E da quel momento in poi Lì come ho detto Voi avete tre turni Altrimenti Entrate Nel loop Nel suo loop Di Nel sacred song loop Si chiama Dal quale Se voi In tre turni Non infliggete 100 mila di danno Lei non la ucciderete mai Quindi E' inutile Poi continuare Diciamo L'avventura Perché Io con quattro unità Sono riuscito ad ucciderla Magari vi capita A questo punto Che voi avete Solo due unità Che non riescono A fargli 100 mila di danno In tre turni E purtroppo Avete Avete un game over In vista Allora Io spero Che vi sia servito Questo video Quello che vi ho spiegato E Spero che riusciate Tutti a catturare Maxwell Come sempre Mi raccomando Avete comunque Nelle descrizioni Del video I link Su Questo sito qua Che si chiama Brave Frontiers Pro Dove poter cercare Cercare un aiuto Col contatore di turni Ci vediamo Al prossimo video E ciao ciao Ciao